Ma è stato operato un grave danno e un vulnus al diritto di esprimersi da parte della popolazione che ha umiliato non solo la Lega ma un intero popolo di pensionati e lavoratori che una volta defraudati di un loro diritto sacrosanto si sono visti togliere anche il diritto di esprimersi attraverso uno strumento previsto dalla Costituzione, qual è il referendum.